Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. In questo video voglio farvi conoscere un sito migliore di Google come motore di ricerca che ci permette di trovare immagini rare, molto belle, per quanto riguarda il proprio pc e cellulare. Andiamo a vedere di che sito vi sto parlando. Il sito è questo qui, si chiama Yandex Image e di cui vi lascio il link in descrizione sotto questo video. Non solo qui troveremo immagini che su Google non ci sono, ma possiamo fare davvero di tutto, utilizzarlo come browser per le ricerche, cercare i video, le notizie, tradurre e molto altro. Adesso vi mostro le immagini in cui possiamo vedere andando in basso anche l'argomento che trattano queste immagini, quindi ad esempio Under the Sea dovrebbe essere sotto il mare, immagini che comunque hanno a che fare con il mondo sottomarino. Ho cambiato un attimo la modalità di Google Chrome impostandola in incognito. In questo modo navigheremo senza limiti, perché nella modalità normale, quindi in Google Chrome predefinito, le funzioni sono limitate e molto spesso non abbiamo l'accesso per vedere tutte le immagini. Quindi mettendo la modalità in incognito possiamo sfruttare al 100% questo sito. Dicevo proviamo a vedere delle immagini, ad esempio Under the Sea, guardate quanto sono belle ragazzi, e poi sono tutte in HD, basta passarci sopra con il mouse sulle immagini per vedere la risoluzione in basso a destra con scritto HD. Poi non so voi ma a me l'oceano, tutto ciò che è un mistero intriga un sacco. Mettiamo il caso che ci piaccia un'immagine, ad esempio questa qui, la apriamo e poi in alto a destra troviamo scritto Open con il tasto per scaricarla. Magari io sto cercando una risoluzione che appartenga anche al mio monitor. Il mio monitor è un 1920x1080, quindi andrò a cercare uno sfondo che si adatti a questa risoluzione. Quindi adesso cosa faccio? Vado in alto, clicco su Wallpaper 1920x1080 che appartiene alla mia risoluzione e adesso mi appaiono tutti gli sfondi da quella risoluzione in su che posso utilizzare per il mio desktop. Ho deciso ragazzi, scaricherò questa immagine qui, quindi la vado ad aprire e poi clicco su Open in alto. Adesso mi si apre un'altra pagina dove io farò un tasto destro, salva immagine con nome. Decido in quale cartella salvare lo sfondo e poi la salvo. Benissimo, ci siamo, andiamo ad applicare lo sfondo appena scaricato con tasto destro imposta come sfondo del desktop. Eccola qui ragazzi, è davvero molto bella secondo me, poi ognuno ha i propri gusti naturalmente, quindi penso che starebbe molto bene per le cartelle e i nomi dei programmi che si trovano sul desktop. Poi ragazzi, come vi dicevo, su questo motore di ricerca, oltre a trovare immagini rare e di ottima qualità, possiamo anche utilizzarlo per fare delle ricerche più approfondite che Google molto spesso nasconde, andando su web. Oppure possiamo cercare dei video che Google non trasmette, notizie o il traduttore di frasi e parole e tantissimo altro. E nulla, lascio a voi scoprire il sito, ve lo consiglio assolutamente perché anche per me è stata una scoperta. E provatelo e fatemi sapere ragazzi, io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.